Ci siamo messi davanti a... Presidente, parliamo un attimo di questa sua venuta a Crotone, solo per Confindustria? Sì, sono venuto perché è invitato da Confindustria per il rinnovo degli organi di Confindustria e perché considero l'impresa che è rappresentata da Confindustria in modo particolarmente rilevante un fattore importante. Io credo che la crescita, lo sviluppo, la prospettiva di un territorio passa attraverso l'affermazione, il consolidamento e l'allargamento di una cultura di impresa perché appunto il Sud e la Calabria hanno una prospettiva se l'asse della utilizzazione delle risorse si sposta da un'impostazione assistenziale che ha prodotto tanti danni nei decenni passati ad una impostazione produttiva di realizzazione di servizi qualificati, di riqualificazione della pubblica amministrazione e questa impostazione non può prescindere appunto dall'allargamento e dal consolidamento della cultura di impresa. Quindi il ruolo in modo particolare della imprenditoria nel crotonese è stato importante nel corso dei decenni, c'è stata una crisi abbastanza acuta che nel corso degli ultimi dieci anni a seguito dello smantellamento del polo industriale ha avuto riverberi anche e soprattutto nel sistema delle imprese e del lavoro. Io credo che sostenere una cultura di impresa e sostenere iniziative imprenditoriali è fondamentale per creare lavoro e anche perché io credo e sono convinto che un patto tra impresa, lavoro e istituzioni democratiche è la via sulla quale battere, sulla quale fare leva per costruire la prospettiva e la crescita di una regione come la nostra. Che cosa ne pensi di quello che ha detto il Presidente Conte a proposito del Sud? Basta la fuga dei cervelli e soprattutto se non riparte il Sud l'Italia non avrà un futuro? Condivido pienamente, naturalmente aggiungo che sono importanti queste affermazioni fatte dal Presidente del Consiglio e devono trovare conseguenti e coerenti politiche, interventi concreti, misure concrete, un grande progetto, un grande piano di investimenti sul Sud che mi auguro che a partire dalla legge finanziaria che sarà il primo vero banco di prova su questo terreno del Governo consentirà di mettere in campo concretamente politiche in questa direzione, misure, investimenti e scelte in questa direzione, investimenti in questa direzione a partire da un grande piano per l'ammodernamento infrastrutturale, da un piano di sostegno alle imprese nel Sud attraverso la defiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese del Sud o che vogliano investire nel Sud attraverso un progetto di sostegno all'imprenditoria giovanile, i giovani che sono la prima vittima nella fuga dal Sud verso altre realtà del Paese d'Europa devono trovare attenzione, quindi il Sud deve non solo essere nell'agenda dei pensieri ma deve essere nell'agenda dei programmi e delle scelte del Governo. Lei si candida allora? Ha deciso di scendere in campo e quindi di candidarsi nuovamente per la presenza della Regione? Non c'è bisogno di ripeterlo ad ogni piesso spinto, credo che è ormai largamente consolidata anche nel senso comune e nei processi che stanno andando avanti.